Lo hanno bloccato con le mani nel sacco, subito dopo il suo turno di lavoro. Adesso deve rispondere di furto aggravato e ricettazione. Lui è Angelo Iapichello, 58 anni, operaio giorese di una ditta dell'indotto. L'uomo, ieri pomeriggio, stava lasciando il complesso industriale dello stabilimento Eni dall'ingresso A, quando il suo incedere ha insospettito gli addetti alla sicurezza che hanno subito allertato il 112. I carabinieri hanno raggiunto subito il posto e hanno sottoposto a perquisizione veicolare l'auto di servizio utilizzata dall'operaio. E con somma sorpresa hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale utilizzato nell'impianto. Si tratta di 180 manicotti di ottone per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari dell'arma di trovare centinaia di utensili da lavoro, punte da trapano, chiavi, cannelli per fiamma ossidrica. Arrestato, Iapichello è stato collocato ai domiciliari in attesa della rito direttore a disposizione dell'autorità giudiziaria. E sempre i carabinieri di Gela hanno arrestato Grazio Pizzardi, 20 anni, molto conosciuto in ambito giudiziario, l'accusa è di resistenza e violenza pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo del territorio i militari dell'arma hanno intimato l'alta al giovane in sella ad un ciclomotore. Per tutta risposta Pizzardi ha forzato al posto di blocco urtando il braccio di uno dei carabinieri in servizio provocandogli alcune ferite. In seguito è stato fermato e condotto in caserma. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Pizzardi lo scorso 4 agosto, nella sede del reparto territoriale, aveva rotto un tavolo in marmo e tentato di colpire più volte gli stessi militari. Un gelese di 20 anni, con precedenti per droga, invece, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. Nella sua abitazione è stato trovato in compagnia di un altro pregiudicato intento a fumare uno spinello. Perquisita da cima a fondo la casa della ragazzo, i carabinieri hanno trovato, celato in una busta di plastica, un involucro contenente 15 grammi di hashish.